Il derby dell'Appennino si avvicina sempre più alla spicciolata, rientrano i nazionali, Stefano Pioli deve assolutamente scegliere la formazione, anche se ritirando l'ennesimo premio della sua carriera a Viareggio nelle passate ore ha cercato in qualche modo di dribblare, di evitare l'argomento. Quest'anno il campione italiano è molto livellato, credo, verso l'alto perché soprattutto battere squadre medie è diventato difficile per tutti, quindi sicuramente la partita di domenica non sarà semplice, ma dobbiamo giocare con grande convinzione, con grande volontà e con la consapevolezza che abbiamo delle buone qualità. Difficile che possa cambiare modulo proprio adesso e allora con ogni probabilità avanti con il 4-3-3, attenzione però perché la vera sorpresa dell'Ara potrebbe essere rappresentata dal danese Norgard, convocato anche in extremis in nazionale, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni ammettendo che per lui è stato un inizio di stagione difficile per chi avrebbe voluto più spazio. Sono però paziente, lavoro al massimo, ha aggiunto lo Scandinavo. Sto parlando, questa è la vera notizia forse, anche con un mental coach perché tanta concorrenza mi spinge sempre a dare qualcosa in più. Ci sono tanti centrocampisti di qualità nella Fiorentina, ha concluso Norgard, però io non devo cercare scuse se non gioco oppure pensare che vada bene così. L'allenatore e il DS dicono che vedo un grande futuro per me nella squadra viola, ciò allora mi dà molta fiducia. E in effetti, pensandoci bene, la chiave potrebbe essere proprio questa, il vice Badel averlo in casa, si tratta appunto del danese Norgard, e spostare nuovamente Vertu in posizione defilata, quella che una volta si chiamava mezzala, laddove il francese spesso è irrefrenabile, oltre a trovare di consueto o quasi la via del gol.